Mi chiamo Francesca Vannocchi e sono ricercatrice Istat. Sono la responsabile dell'iniziativa il censimento permanente sui banchi di scuola, un progetto di comunicazione dei censimenti e di promozione della cultura statistica promosso dall'Istat grazie alla collaborazione del Ministero dell'Istruzione. Brevemente illustrerò il poster prodotto che mette in evidenza le principali caratteristiche di questa attività, nata con lo scopo di informare le nuove generazioni delle profonde innovazioni introdotte dal censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e sensibilizzarle rispetto al ruolo della statistica per la conoscenza e la comprensione della realtà. L'iniziativa si rivolge alle scuole primarie, in particolare alle classi terze, quarta e quinte e alle scuole secondarie di primo grado. La prima edizione si è svolta nell'anno scolastico 2019-2020. L'11 ottobre 2021 è partita la terza edizione che è in corso di svolgimento. L'iniziativa si compone di un percorso informativo e formativo differenziato per ordine scolastico al quale è collegato un contest suddiviso in due parti, una competizione statistica, licenzi gare e un concorso di idee sul tema censimento e territorio. Gli alunni attraverso la preziosa guida dei propri insegnanti si approcciano all'informazione statistica, apprendono i risultati delle rilevazioni censuarie, imparano a usare i dati per raccontare il proprio territorio. Per suscitare l'attenzione di bambini e ragazzi è stato necessario pensare a un linguaggio che potesse rendere interessante e comprensibile tale proposta. L'idea centrale intorno alla quale l'intera operazione si snoda è la costruzione di un mondo creato su un personaggio denominato Pop, che vedete qui dietro alle mie spalle, prossimo alla realtà di bambini e ragazzi che vanno a scuola. Infatti Pop nasce dal concetto base di unità e modulo che ritroviamo nei quaderni a quadretti. Il puppet interagisce con lo studente in un dialogo che prende forma sul foglio stesso. La mascotte introduce il bambino nel suo mondo, composto da numeri che raccontano la realtà. Per i ragazzi più grandi il segno visivo è declinato in modo diverso. Il modulo quadrato, che deriva dalla classica struttura a quadretti, esce dal quaderno, evolve e si trasforma in animazioni che supportano i concetti espressi. Attraverso questo espediente bambini e ragazzi sono accompagnati lungo un percorso che avvicina la statistica alla vita di tutti i giorni, in una dimensione di cui diventano a loro volta dei protagonisti. Coerentemente con questa idea di fondo è costruito un sito che ha lo scopo di veicolare i contenuti legati all'iniziativa. Esso costituisce un ponte di comunicazione con gli insegnanti che ricevono le informazioni e i contenuti per procedere in questo percorso, ma anche con i genitori che in questo modo possono seguire i propri figli coinvolti nelle attività legate all'iniziativa, conoscere gli esiti della competizione statistica e vedere i progetti creativi realizzati dai loro figli. Il sito è il punto di partenza e di arrivo del lavoro condotto tutti insieme, istat, insegnanti, alunni, genitori. Il sito è costruito rispondendo a tutti gli standard di accessibilità e richiamando gli ultimi trend della comunicazione digitale. L'articolazione dei contenuti è disposta all'interno di una fascia bianca che spicca sullo sfondo rosso e richiama lo stile di navigazione mobile con un lungo scroll. L'organizzazione degli spazi delle pagine web e lo stile giocano con le icone del mondo della scuola, così come la texture, quaderno a quadretti e le immagini nelle bande rosse laterali. La mascotte si ripete nel sito e conduce l'utente nella sua navigazione. L'utilizzo delle frecce che facilitano la lettura accompagna Pop nel suo ruolo di guida. Egli appare animato poiché la spiegazione dei concetti espressi nel sito è affidata proprio a lui. Anche la comunicazione tramite i social network dal punto di vista dell'immagine è costruita con lo scopo di arrivare a insegnanti e a genitori degli alunni. A tale proposito ad esempio è stato realizzato un filtro Pop fruibile attraverso l'account Istat su Instagram che può essere utilizzato dall'utente per scattare dei selfie fino a un massimo di cinque soggetti contemporaneamente applicando il viso di Pop che mima le espressioni facciali più comuni, l'occhiolino, il sorriso, gli occhi sbarrati. Tutti questi elementi che caratterizzano il progetto sono presenti anche nei videoprodotti. I filmati hanno lo scopo di far conoscere e promuovere l'iniziativa e rendere riconoscibile l'immagine di questo progetto e sono tutti raccolti nella sezione Istat della piattaforma YouTube. Nel poster sono illustrati i dati che riguardano la fruizione del sito e dei social network e questi dati evidenzano un'accoglienza e un interesse dal parte del pubblico. Infatti l'esperienza dei primi due anni è stata molto positiva e ha mostrato il coinvolgimento di insegnanti e alunni che hanno partecipato con ottimi risultati nonostante il periodo pandemico che ha messo a dura prova il mondo della scuola. In questo contesto l'iniziativa si è saputa adattare ed è andata anche incontro alle esigenze mutate di insegnanti alunni. L'iniziativa è cresciuta proprio anche attraverso questo passaggio critico ed attività realizzata come azione della campagna di comunicazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è divenuta dalla terza edizione attività corrente dell'Istat e sarà ripetuta ogni anno. Concludo menzionando un altro aspetto importante ovvero che l'attività è stata svolta conformemente a quanto stabilito nel protocollo d'intesa sancito nel 2019 tra MIUR e Istat. Bene per il momento è tutto Pop e io vi ringraziamo dell'attenzione.